Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi facciamo un video tutorial dove vi spiego come fare le reti misclerizze con solo delle cose molto semplici che è una collanina e due elastici. La collanina non vi preoccupate se ha un nodo qui al centro, anzi ci aiuta pure con questo nodo al centro e comunque si sarebbe andata a intimidare. Allora iniziamo, si prende questo elastico che può essere di qualsiasi colore, quello che preferite tanto come modella abbiamo Midnight che è la diumenta a frisone glielo mettiamo intorno alla testa senza che però vada a prendere i suoi codini perché poi è anche brutto da vedere. Si prende, se ci riesco un momento, ci riusciremo? Ok, si prende in questo modo e si gira a 8 si ferma qui davanti alle orecchie però senza che prenda gli occhi si sistema un pochino come vogliamo noi si prende il secondo elastico e si mette intorno alla testa lo sistemiamo vicino alle orecchie e facciamo lo stesso lavoro però si ferma qui alla bocca ecco che arriva la parte della nostra collanina che andiamo a mettere intorno al collo il nodo ci aiuta perché poi prendiamo questa parte e la tiriamo su in questo modo giriamo sempre a 8 e lo mettiamo qui sopra la parte trasparente un momento eh se andate un attimo in crisi ok, oddio, perdono scusate c'è un problemino non riusciamo a mettere siete pronti per andare su Red Cup spero di sì questo è quello che ci ritroveremo come risultato come parte finale spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un commento iscrivetevi al canale attivate la campanella e ci vediamo al prossimo video ciao